Le vicende politiche e giudiziarie degli ultimi giorni hanno portato al centro del dibattito pubblico un tema, quello della violenza sessuale e del processo per violenza sessuale, che in realtà è centrale nella nostra società, forse anche di più quando ad esserne protagonisti non sono figure di spicco della politica o dei media, ma le persone cosiddette comuni. Buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è di questo che oggi vogliamo parlare. Ne parliamo insieme all'avvocato Jacopo Benevieri, che è già stato ospite nella nostra rubrica e che qualche anno fa, proprio sul tema della violenza di genere e del processo penale, ha scritto un saggio molto interessante che si intitola, lo vedete qui, Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere, della tab Edizioni. E quindi buongiorno, avvocato, e grazie di aver accettato il nostro invito per un tema così sensibile. Buongiorno e grazie a voi. Avvocato, allora, io voglio partire subito con una domanda che in tanti si sono fatti e si fanno, spesso anche faticando a trovare una risposta, non solo specialisti, ma anche persone che magari non hanno una formazione prettamente giuridica e che osservano quello che accade nella realtà con occhi diversi. Partirei da questa riflessione, per l'appunto, cioè che proprio in ragione della nostra Costituzione e dei principi sovranazionali tutelanti i diritti umani, nel nostro ordinamento c'è un bilanciamento da considerare anche nei processi per violenza di genere, cioè quello tra il diritto dell'imputato, il reato di violenza sessuale, pensiamo, ad essere considerato innocente fino a sentenza definitiva di condanna e la necessità, dall'altro, di prevenire la vittimizzazione secondaria della persona che si assume offesa nel reato di violenza sessuale, che molto spesso e quasi sempre è una ragazza, una donna. Quindi si tratta di due principi fondamentali, quelli che ho appena citato, tutelati non solo dalla Costituzione ma anche, per esempio, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che possono entrare in conflitto nell'ambito del processo penale. Che esista dunque questa attenzione al conflitto è sicuramente vero. Poi magari lei mi dirà che non è così e poi comunque ne discuteremo. La domanda però che le faccio è, esiste un modo razionale, efficiente, idoneo per essere utilizzato nel nostro ordinamento per risolvere questo conflitto, secondo lei? Beh, allora, diciamo che la mia è una riflessione che propongo dalla prospettiva di avvocato penalista, che si trova a difendere imputate e persone offese e che quindi, come molti miei colleghi e colleghe, ha una visione, come dire, della trincea dell'aula di udienza, cioè di un luogo nel quale si ha la possibilità di misurare concretamente fino a che punto queste garanzie costituzionali abbiano vita, abbiano corpo. E poi occupandomi neanche del linguaggio e quindi del ruolo del linguaggio nel processo penale, o, come dire, abbiamo un piano straordinario di osservazione, perché il linguaggio ci consente di capire molto del fenomeno di cui stiamo discutendo. Quindi il tema è chiaro, c'è un'aspra contesa sempre, tra opposte fazioni quasi, che si scatena ogni volta che si celebra un processo penale di questo tipo, cioè i cosiddetti processi dal codice rosso. C'è una forma di amplificazione sociale della posizione della vittima da un lato e un'amplificazione sociale della posizione del mostro imputato dall'altro. E pare ogni volta che si tratti quasi di uno scontro tra opposte visioni proprio del processo, no? A tal punto che, strano da dire, però se per ventura noi ci troviamo a criticare una volta, no? La colpevolizzazione anticipata dell'imputato si è subito iscritti tra i denigratori dei diritti della persona offesa. Se poi invece il giorno dopo, su un'altra vicenda processuale, siamo liberamente indotti a ritenere che, ad esempio, le domande formulate alla persona offesa o l'argomento del giudice nella sentenza abbiano un tono moralizzatore, no? Si è iscritti tra i sostenitori di quella parte processuale. Cioè si realizza ormai quotidianamente un meccanismo per il quale si è chiamati a sostenere sempre e aprioristicamente una stratta parte processuale. E guardate che per chi esercita la professione di avvocato questa è un'idea assolutamente inconcepibile. Allora, il tema, come lei diceva, è questo. C'è un modo di affrontare in aula e di raccontare fuori dall'aula il processo penale, diciamo da codice rosso per semplificare, che garantisca contemporaneamente i diritti dell'imputato e i diritti della persona offesa. Secondo me sì, c'è un modo di affrontarlo e questo modo è il terreno del linguaggio nel processo. Che sia un linguaggio, e ne faremo alcuni esempi, di garanzia e non di potere. Ed è un linguaggio che se sapientemente utilizzato nell'aula di udienza quando si difende l'imputato e quando si difende la persona offesa, consente di anestetizzare, di direi narcotizzare ogni possibile futura polemica. Io proprio ieri mi è arrivato un verbale di udienza delle trascrizioni di un contresame condotto da un difensore. Facciamo esempi opposti, perché poi il linguaggio è lo stesso. Cioè, spesso ci ritroviamo a fare polemica dicendo, però si è utilizzato un linguaggio moralizzante nei confronti della persona offesa, però spesso a volte accade che nell'aula di udienza gli stessi difensori della persona offesa utilizzino questo stesso linguaggio moralizzante nei confronti dell'imputato. Quindi, come dire, si realizza una polarizzazione del linguaggio che è in mano a entrambe le parti processuali, che vorrebbero averne però l'esclusiva. Allora, se noi prendiamo questo esempio, è un processo che è stato celebrato per violenza sessuale, una giovane ragazza accetta l'invito di recarsi in una casa abbandonata nella periferia di una città da parte di un suo amico, perché lei riteneva di dover, così dice lei, diciamo così, chiedere giustificazioni su alcuni comportamenti che lui aveva tenuto. Si incontrano, dopo un po' capisce che il ragazzo ha intenzione di avere un approccio sessuale e lei sostanzialmente non dice di no, ma dice che vuole tornare a casa perché ha un impegno con la madre. Le domande fatte dal tribunale, attenzione, dal tribunale, al tribunale. Sono state le seguenti, lei disse chiaramente che non voleva stare lì con l'imputato, è stata chiara? E la risposta è stata, ho detto che avevo da fare il tribunale. Dunque lei è stata vaga, ha trovato un pretesto, non è stata chiara. Ora è ovvio che un linguaggio di questo tipo presuppone che vi sia un solo tipo di dissenso valido, che è quello esplicito, quello netto, quello aperto, quello manifesto, no? E che quando il dissenso sia invece opaco, indeciso, titubante, si possa ricadere in una sorta di condizione di dubbio favorevole. Ecco, siamo evidentemente di fronte ad una scelta del tema delle domande da parte del tribunale, che non solo è in contrasto con gli orientamenti della Cassazione, che valorizzano già l'assenza di dissenso, ma la presenza costante del consenso. Ma sono domande che si fondano su un presupposto, cioè che il dissenso incerto sia consenso. E attenzione, nel proseguo dell'esame si ritiene, si dice a un certo punto, ci faccia capire, ma lei nell'ipotesi più favorevole, cosa si immaginava che sarebbe accaduto in questa casa abbandonata? Siamo di fronte alla valorizzazione di una condotta antecedente, cioè siccome sei andata in una casa abbandonata con un ragazzo, automaticamente tu presterai il consenso. Ora, è evidente che si tratta di domande che si basano su stereotipi, che tendono ad accertare non il fatto, ma ad attivare dei soliti meccanismi stereotipici del destinatario. Quindi è chiaro che siamo di fronte ad un linguaggio, come dire, che ha una forte valenza di colpevolizzazione. Ma dall'altra parte, dall'altra parte, abbiamo processi penali nei quali all'imputato viene chiesto, di violenza sessuale, e ne ho avuti vari, se era un allenatore, se era prestante fisicamente, se faceva palestra, perché si induceva in questo modo l'attivazione dell'inferenza che se sei un preparatore atletico, se sei muscoloso, se sei prestante, sei capace di essere violento, no? E quindi in qualche modo, diciamo, si attiva lo stereotipo del violentatore brutto. Il meccanismo è lo stesso, cioè anziché chiedere come noi riteniamo che non si possa chiedere alla persona offesa cosa indossavi, dobbiamo altrettanto ritenere che non si possa chiedere all'imputato se era un istruttore di palestra, cioè nel senso non porta niente se non l'attivazione di stereotipi. Quindi noi abbiamo, in entrambi casi, spesso, l'atteggiamento da tifoseria estrema che invece dovrebbe essere, come dire, spento, torno a dire narcotizzato nell'audienza. Guardate che c'è modo di esercitare pienamente i diritti di difesa della persona offesa e dell'imputato senza avere questi, come li chiamo io, sconfinamenti linguistici. Perché andiamo a vederci il processo Johnny Depp e Amber Heard. Questo è stato un processo che è stato sotto i riflettori dell'intero mondo. E quando la legale di Johnny Depp ha fatto il controesame a Amber Heard, che è durato quattro ore, voi non avrete tempo, io lo sto analizzando, perché vorrei fare poi delle highlights, dei momenti tipi più rilevanti. Voi non troverete nelle domande ficcanti della legale di Johnny Depp stereotipi e atteggiamenti, lessico, argomentazioni implicite, colpevolizzanti. Eppure è riuscita, portata a dame il processo. Allora, qual è il tema? Il tema è che dobbiamo essere consapevoli dello strumento linguistico, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo essere preparati, non attivarci attraverso, come dire, basarci soltanto sull'esperienza personale o su un sensibilità. È una disciplina quella del linguaggio, quella dell'argomentazione, studiata da tantissimo, da tantissimi anni, da tantissimo tempo, la linguistica forense almeno dagli anni 50 in poi. Quindi essere pronti, preparati, sapere quali sono le domande implicative, quali sono le domande stereotipiche, quali sono le domande polari, le domande assertive, cioè conoscere tutti questi e essere capaci di gestirle e saper far sì che nell'aula di udienza qualsiasi toga si indossi, qualsiasi toga si indossi, si è responsabili del linguaggio che lo si usa. Perché attenzione, l'aula di udienza è il luogo dove il linguaggio prodotto esce dall'aula poi, va nella società civile. Se io faccio certe domande all'imputato, che tendo a veicolarlo con l'immagine di mostro, e queste domande vengono riportate nella sentenza, e la sentenza viene riportata dai giornali, le mie domande sono entrate nella società civile. E allora ho io una responsabilità. E certo, ci vuole fatica, perché è molto più facile fare le domande a senso, cercando di attaccare la credibilità della persona offesa soltanto minandomene la faccia, in senso goffmaniano, no? Cioè l'immagine pubblica della persona che sta in aula. È facile, è la cosa più semplice di questo mondo, basta lasciarsi andare, no? Basta non controllarsi. E allora ci vuole una grandissima preparazione anche tormentata, molto tormentata. Io quando preparo gli esami delle persone offese è una delle cose più difficili, perché so perfettamente dell'atto di responsabilità. C'è stato un bellissimo momento del contresame della legale di Johnny Depp, quando a un certo punto dice a Amber, gli dice una cosa, gli dice guardi, lei sa che io dovrò affrontare temi delicati? Certo che lo so. Ecco, se dovessi, dice un termine, non ricordo, se dovessi eccedere o se dovessi urtarla, me lo dica. Attenzione, la tecnica, è stata una tecnica furba, perché elimina il giudice come terzo interlocutore nella gestione delle domande e crea una... Guardate, si può fare, si può fare. Quindi non mi scrivo in nessuno schieramento prestabilito, mi tormento nell'uso del linguaggio sia quando difendo l'imputato che quando difendo... Perché è strumento di garanzia. La coperta non è mai troppo corta delle garanzie, mai troppo corta. Scusate questo... No, no, giustamente. Lei ha detto il linguaggio come strumento di garanzia. E però, negli ultimi tempi... Allora, partiamo da un dato fondamentale. Il processo è, diciamo, esso stesso connotato da un aspetto extra processuale, come ricordava lei, perché il processo molto spesso, intendiamo il dibattimento, viene raccontato, e anche la sentenza vengono raccontate dai giornali. Dove il linguaggio talora, e direi molto spesso, soprattutto negli ultimi tempi, non assume più una funzione, soprattutto nei casi di violenza sessuale, di garanzia, quanto una funzione più prettamente di potere. E cerco di argomentare questa mia osservazione, poi gliela sottopongo, mi dirà se è giusta o sbagliata. Sono rimasto fortemente stupito dal fatto che, rispetto ad alcuni casi di cronaca, di cui non faremo ovviamente il nome, ma che tutti voi che state ascoltando capite, i giornali, ancor prima addirittura che il processo iniziasse, hanno tentato di ricostruire, letteralmente, non soltanto i fatti che poi saranno giudicati a processo, ma addirittura il contesto nel quale, ad esempio, viveva la ragazza che si assume essere stata vittima di violenza sessuale, ho letto qualche giorno fa che addirittura, facendo un rischiosissimo collegamento tra due casi diversi, è stato addirittura affermato che due ragazze che sono appunto state, tra quelle che hanno denunciato due personaggi noti, hanno frequentato la stessa scuola, quasi appunto che questa cosa fosse una coincidenza in qualche modo rilevante per la decisione nel caso di specie. Oltre che ad essere fortemente rischiosa, perché parliamoci chiaro, non siamo più negli anni 90, quando cominci a dare così tanti dati in pasto al pubblico, stai rischiando anche di fare uscire l'identità di una persona, perché va bene usare il nome fasullo, va bene usare tutte le precauzioni, ma quando cominci a raccontare tutta una serie di attività, tutta una serie di dettagli sulla vita privata, è cavolo, scusate se mi arrabbi su questo punto, ma chiunque è in grado di trovare il nome e il cognome di una persona, quando cominci a dire dove vive, la scuola, i locali che frequenta, gli amici che frequenta, le eventuali coincidenze con altri casi, parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, questa è una cosa imbarazzante. Comunque, al di là di questa intemerata, voglio tornare sull'aspetto di prima. Ecco, l'impressione è che invece, non so che cosa accada nelle aule dei tribunali, o meglio, poi rifletteremo anche su quello, però quello che accade sui media, che raccontano i processi, è che il linguaggio, in questi casi, sia un linguaggio fortemente di potere, e aggiungo, un potere fortemente orientato, perché, casualmente, è sempre quando la vittima è la ragazza, che si fa tutta questa analisi quasi, diciamo, morbosa delle sue abitudini di vita, delle sue, come dire, delle sue tendenze, addirittura delle sostanze che eventualmente potesse aver preso in passato, quindi è un potere fortemente maschilista, da questo punto di vista. Lei è d'accordo con questa mia osservazione, oppure mi dice di no? No, che ci sia una alterazione totale della raffigurazione del processo penale, anticipandone la, diciamo così, attribuzione di responsabilità. Guardate, io ho sempre sostenuto che, purtroppo, torno a dire, sono avvocato, ma vi rendete conto? Mi tocca specificarlo. Cioè, io, di volta, devo dire, sono avvocato penalista, difendo gli imputati, perché poi mi viene contestato, quando io soltanto dico, guardate che c'è un problema di colpevolizzazione anticipata della vittima nei mass media attraverso la rappresentazione del processo, e dici, ma tu sei a favore, no? Sei un femminista. Incominciano subito a dare categorie ideologiche nelle quali non sto. Io mi occupo di problemi di garanzia. Se mi è a cuore la garanzia dell'imputato e la presunzione di non colpevolezza dell'imputato mi è a cuore la presunzione di non colpevolezza della vittima. Articolo 27,2 bis, introduciamolo nella Costituzione. La vittima non è considerata colpevole. La vogliamo mettere? Mettiamocelo. Ok, allora io mi rendo conto che quando vi è una rappresentazione anticipata delle condotte della vittima, che, attenzione, fanno riferimento a stereotipi. Fanno riferimento a stereotipi, perché se io dico che la vittima quella sera è andata a bere in un pub con l'imputato e valorizzo questo dato conoscitivo come dato rappresentativo della indole della vittima, è ovvio che io faccio e attivo una serie di inferenze sociali che non le dico io, perché negare questo significa essere e porsi come avvocati al di fuori delle discipline che studiano. Jennifer Temkin nel 1980 evidenziò dieci meccanismi stereotipici di questo tipo e sono ancora gli stessi. Se tu dici che ti fai le foto su TikTok in minigonna e dici che la sera sei andata a bere con l'imputato, o dici che sei andata in una casa abbandonata, automaticamente tu rappresenti che vi è una disponibilità indistinta a qualsiasi rapporto sessuale. Allora, questo è garanzia o no? Se la stessa cosa avvenisse per l'imputato diremmo che ci sarebbe un soffocamento delle garanzie, sì o no? Sì. E allora carini miei diciamolo anche quando succede per la persona offesa. Torno a dire, la coperta delle garanzie non è mai troppo corta, riesce a coprire pienamente sia l'imputato che la persona offesa. Andiamo sul fatto. Qual è la dimensione socioculturale della persona, dei rapporti individuali. Attenzione, il processo si occupa di eccezioni. Il processo si occupa continuamente del singolo fatto che eccepisce l'idquod prerunque accidit sempre. Allora scendiamo sul fatto e non utilizziamo stereotipi. Anche perché questa cosa qui soffoca anche la stessa difesa dell'imputato. Perché io altero automaticamente un meccanismo a tal punto che lo stesso giudice potrebbe trovarsi a culturalmente andare a difesa della persona offesa perché c'è stato un megafono mediatico talmente. Cioè ci rendiamo conto che viene alterato tutto. Allora io come avvocato non ho mai rilasciato interviste. Io come giudice non rilascerei assolutamente una intervista. E attenzione abbiamo il problema dei criteri della notiziabilità. Lo sappiamo dal 1970 in poi almeno abbiamo come dire dei criteri di notiziabilità che vengono seguiti dalle scuole di giornalismo e che spesso sono sovrapposti ai criteri di giudizio poi nel processo. Nel senso che c'è un'estrema confusione. Allora il linguaggio fuori dall'aula entra dentro l'aula. Entra. La polarizzazione di un linguaggio mediatico. Attenzione se i mass media polarizzano il linguaggio tu dici vabbè lo fanno i mass media non entra nel processo. Entra nel processo culturalmente perché le persone offese i difensori i giudici che leggono quotidianamente una rappresentazione di queste vicende attraverso un linguaggio polarizzato quando arriveranno dopo cinque anni a decidere una vicenda analoga culturalmente saranno intrisi purtroppo di questi schemi. Allora tutto si collega torno a dire l'atto del linguaggio l'atto della comunicazione è un atto pubblico sempre sia che io lo pronunci in camera di consiglio in un'aula pubblica in un giornale o in una stanza privata. La parola è atto pubblico di per sé. Bene? Ok? Quindi io ho una responsabilità come diceva James Joyce la responsabilità è il peso della cosa. Respondeo. No? Che non vuol dire soltanto rispondere vuol dire pesare la cosa che si porta. Ecco tu devi pesare la cosa che porti. Certo è che nelle ultime vicende che ci sono state come lei diceva c'è stato veramente uno sconfinamento anarchico direi della rappresentazione della vittima. Attenzione subire in Italia spesso è un verbo deponente cioè ha un significante passivo ma un profondo significato attivo. Aver provocato l'azione che si è subita. Sempre purtroppo. E questo da difensore degli imputati io non ho mai aderito a questa impostazione. Mai. Non è quella la strada per la difesa utile dell'imputato. Torno a dire qui finisco questa mia seconda. La Costituzione ci impone di esercitare la nostra professione per contribuire al progresso materiale e spirituale. I costituenti quando utilizzano il termine spirituale volevano dire culturale. I contadini del popolo non avrebbero compreso e quindi il linguaggio delle costituenti è stato un linguaggio per il popolo. Hanno detto che ciascuno di noi con la professione che svolge deve contribuire al progresso materiale e culturale. Cioè non puoi mai scendere questa prospettiva, questa visione, questo slancio, questo schema verso un evitare l'imbarbarimento della collettività. Sono d'accordo. È un tema fondamentale quello che lei ha sollevato e vorrei riprendere una delle sue osservazioni che ha fatto in questo ultimo intervento dove ha detto che il linguaggio extra processuale entra nel processo e è vero anche il contrario. Il linguaggio processuale esce ed entra nel name. Quindi c'è un rapporto da questo punto di vista completamente diciamo di assorbimento reciproco. A proposito di linguaggio processuale a questo punto. Era il 2021 quando la Corte Europea dei diritti dell'uomo condannava l'Italia e nel famoso caso forse qualcuno di voi non lo conosce ma poi metteremo anche il link in descrizione perché molte sono le traduzioni che sono state fatte di questa sentenza. Era JL contro Italia. Perché, dice la Corte Europea dei diritti dell'uomo, i giudici di merito hanno utilizzato un linguaggio stereotipante nei confronti della vittima di violenza sessuale. Non andiamo nello specifico perché non sarebbe neanche il caso ma questo è quello che la Corte, se uno poi vuole leggersi la sentenza capisce anche di che cosa si tratta, questa è una tendenza e questa sentenza è del 2021 quindi non stiamo parlando di anni 60, 2021, tre anni fa, due anni fa, perdono. Questo mostra una tendenza che soprattutto con alcune decisioni che hanno fatto molto discutere in Italia e all'estero degli ultimi giorni in cui i giudici di merito hanno definito per esempio disinibita la vittima di un ferato omicidio solo perché produceva contenuti hard su una piattaforma o in un altro caso, insomma senza dover, questo è un caso che è finito anche all'attenzione della stampa estera e in un altro caso appunto si è detto che in fondo in fondo palpeggiare il sedere di una ragazza minorenne oltretutto, ma sì insomma si potrebbe anche credere alla tesi di un gioco sicuramente inappropriato però in fondo non rilevante dal punto di vista penale. Ecco qualche mese fa, lo ricordiamo tutti, la Corte d'Appello di Firenze, qui mi va di fare diciamo un riferimento, aveva detto che in fondo il fatto che la porta del bagno in cui una ragazza era stata vittima di violenza sessuale era stata, era leggermente aperta, i pantaloni un po' slacciati così potessero costituire degli elementi rilevanti per stabilire o meno la responsabilità penale della persona che si appunto era sottoposta a procedimento, tutto questo. Allora io le voglio fare una domanda, il linguaggio nel processo penale, e non andiamo a parlare di quello che dice la Cassazione, perché la Cassazione ovviamente parla di diritto. Io voglio parlare dei tribunali e delle corti d'appello, quindi i giudici di merito, secondo la sua esperienza e secondo i suoi studi, che so che sono tanti su questo punto, c'è una tendenza, c'è ancora una tendenza da parte soprattutto dei giudici di merito a non considerare invece il linguaggio come una garanzia, ma molto spesso a, tra virgolette, colpevolizzare la vittima di violenze sessuali più o meno esplicitamente attraverso alcune delle cose che vengono scritte e dette e nelle sentenze, ma soprattutto nel dibattimento. Lei prima ci ha fatto un esempio con la lettura che ci ha fornito, però io le voglio chiedere se questo, se quella lettura che ci ha fornito è rappresentativa di un'eccezione pure se la tendenza sia un po' più generale, secondo la sua esperienza di avvocato e di studioso. Scusate la domanda. Allora, purtroppo, sì, allora, si tratta di una tendenza che è diffusa non a tal punto da essere soffocante e dominante, nel senso che abbiamo moltissimi magistrati e magistrate che hanno una sensibilità, un grande equilibrio e non lo dico per cortesia politico istituzionale, ma perché veramente è così. Insomma, ho avuto modo anche di confrontarmi personalmente con molti di costoro e il tormento che vivono nell'affrontare certe vicende, sapendo qual è il peso nel caso di assoluzione o di condanna per entrambe le parti, è molto grave. Purtroppo vi è un altro discorso da fare, che laddove il singolo magistrato, ma non solo, guardate attenzione, non voglio rappresentare e puntare il riflettore soltanto sulla categoria della magistratura, perché in realtà io credo che loro siano i destinatari filtranti ultimi dei nostri discorsi in aula. E i discorsi in aula sono i nostri, cioè quelli dei legali, quelli della classe forense, quelli del pubblico ministero. Il discorso di partenza, il discorso forense, il primo turno di parola, come si direbbe in termini linguistici, è il nostro, no? È il nostro. Quindi spesso, io torno a dire, abbiamo una responsabilità noi nel veicolare un certo tipo di linguaggio nelle aule d'udienza laddove, torno a dire, laddove quando si formano certe domande alla persona offesa o anche all'imputato, come nell'esempio di prima, nessuno si oppone, cioè nessuno interviene per ritenere, per bloccare quella domanda, per ritenerla o per evidenziarne l'inammissibilità. Quindi c'è un passaggio dalla nostra voce che diventa poi voce della sentenza a volte, ok? Certamente poi la responsabilità della magistratura è quella di non saper fare, a volte, il filtro dovuto di questo tipo di linguaggio. E questo avviene, e io torno a dire, purtroppo la nostra responsabilità è una responsabilità di preparazione, cioè se io non ho ben chiaro in cosa consista una implicazione stereotipica in una domanda, cioè in quali meccanismi sottili linguistici io possa inserire in una domanda una implicativa, uno stereotipo, se io non so questo non sarò in grado di oppormi a quella domanda. E se mi opporrò perché il mio senso, la mia pratica, il mio mestiere mi fa capire, mi fa intuire che quella domanda è una domanda assolutamente inammissibile, ma non saprò motivarla, non saprò motivare la mia opposizione, non saprò scrivere una memoria difensiva che evidenzi come quella domanda fosse inammissibile da introdotto o un giudizio stereotipico e non potrò fare un appello su questo. Vedete come l'ignoranza, la mancata preparazione su questi temi, poi si proietti in un modo assolutamente devastante sulla tutela dei diritti della persona che io assisto, perché se io nel momento in cui mi fanno la domanda ma lei esercita l'attività di istruttore e va in palestra, non so oppormi dicendo giudice guardi che in questo modo io attivo un'inferenza che è identica all'inferenza che viene attivata quando io dico come ti eri vestita, è la stessa identità, se non so motivare questo e quindi non vi è una preparazione, scusate, ma d'avvocato quello che io ritengo assolutamente indispensabile è quella di avere una preparazione sul linguaggio, cioè se noi dobbiamo essere noi portatori di garanzie, dobbiamo essere noi i primi a, come dire, sconoscere la dinamica di garanzia del linguaggio e l'altra faccia, il Giano Bifront, la dinamica del potere, della potenza, dalla prepotenza e saperla riconoscere, saperla denunciare, saperla censurare, motivare e abbiamo 50, 60, 70 anni di studi su questa roba qua, soprattutto anglosassona, americana, spagnola, qualcosa di francese, molto olandese, perché non possiamo aprirci a queste discipline che ci consentono di esercitare il nostro diritto meglio in aula, di fare domande meno idiote, meno colpevolizzanti ed evitare che le nostre domande costituiscono argomento di sentenza che verrà poi portata nei giornali. Esatto, esatto, esatto. Il nostro discorso è un discorso pubblico in aula. Noi indossiamo una toga, indossiamo una toga, è un discorso pubblico, non esiste che si dica la parola della difesa dell'imputato, la parola della difesa della persona offesa, è la stessa parola. Gli argomenti giuridici saranno diversi. Valorizzerò alcuni fatti, ma la parola è la stessa. Quindi io non ci sto alla divisione in tifoserie tra chi propende per una reizzazione dell'imputato o per una colpevolizzazione della vittima anticipata. Schierandomi per l'una e per l'altra non appartiene al mio essere avvocato. Quindi, attenzione, controllo del linguaggio, conoscenza, disciplina, studio, tormento, umiltà nello studiare questo meccanismo straordinario. Le domande, le risposte, i silenzi, le titubanze, saper interrompere. Sono grandissimi meccanismi di potere già questi. Già questi. Non c'è bisogno che io dica ma lei era andata volontariamente a casa dell'imputato. Non c'è bisogno. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, JL contro Italia, in lingua originale inglese parla di tutela della immagine. Parla della tutela dell'immagine perché sa una cosa. Loro sanno una cosa che noi non vogliamo sapere e cioè che la prima cosa che una persona fa quando si mette in aula e racconta e dichiara sia l'imputato sia la persona stessa è la tutela della propria immagine. Sono più impegnati nel tutelare la propria immagine pubblica in quel momento che concentrati nella narrazione del fatto materiale che devono narrare. Questa è una dinamica sottilissima e le domande colpevolizzanti, lo sapete come si chiamano nella disciplina linguistica, atti di minaccia alla faccia, cioè all'immagine. Guardate come tutto è collegato. Quindi purtroppo ancora vi è una grande presunzione di poter ritenere il linguaggio come una dimensione quasi curiosa, scherzosa, quasi da settimana, da curiosità, così. Ma in realtà è un qualcosa di strutturante il processo penale, profondamente strutturante il processo penale. Quindi per favore torna a dire, non si dica, io quando faccio i convegni, io quando ho scritto questo libro mi è stato detto eh però tu in questo modo limiti il diritto di intervento della difesa dell'imputato. Io, io, no io non voglio una anacchia linguistica signori miei, io non voglio una difesa fatta a spanne, io non voglio una difesa fatta di stinto, io non voglio una difesa fatta di stereotipi, voglio una difesa fatta come la legale di Johnny Depp ha fatto nel processo con Amber Heard, perché ho avuto testimonianza per una serie di collegamenti che ho negli Stati Uniti che è stato un controesame che ha preparato per mesi, per mesi, equilibrando ogni singolo aspetto. È potere il linguaggio, è potere e deve tornare a essere garanzia. Il linguaggio e potere deve tornare a essere garanzia. Questa è direi la frase sulla quale concluderei la nostra conversazione di oggi, ringraziando l'avvocato Jacopo Benevieri non solo per i suoi interventi ma anche per la passione con cui ha argomentato le sue tesi oggi, perché sono argomenti che effettivamente per chi li studia come l'avvocato Jacopo Benevieri e per chi tiene tanto ad essi come l'avvocato Jacopo Benevieri generano passione, specie quando l'attenzione del pubblico non sembra essere, diciamo, l'attenzione del pubblico generale invece sembra concentrarsi più su altri aspetti. Per capire e approfondire quanto abbiamo detto oggi in questa conversazione io ricordo il libro dell'avvocato Jacopo Benevieri cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere. Dottore, posso dire una cosa? Certo. La cosa più importante di quel libro è la bibliografia. Certo, concordo. Dovrebbe essere messa all'inizio, non alla fine la bibliografia di un libro, perché sono i testi ispiranti la colonna vertebrale degli studi di quel libro e degli studi futuri per chi vorrà proseguire il percorso. Scusate. No, no, sono d'accordo, infatti anch'io in questi giorni stavo consultando soprattutto la bibliografia, perché appunto è corredato anche da un apparato di notte sempre molto puntuale e preciso. C'è un altro libro dell'avvocato Jacopo Benevieri che abbiamo presentato qui qualche mese fa e che si intitola Abiura, le parole della giurisdizione tra inquisizione e garanzie. Chi volesse essere interessato può vedere il video che abbiamo realizzato qualche mese fa sul canale di Liberi Oltre Agora. Avvocato, grazie. Grazie della conversazione. Speriamo che il pubblico insomma esca da questo video con una consapevolezza in più, sono certo che sarà così. Nel frattempo auguro a tutti voi che ci avete ascoltato una buona giornata. Grazie.